FUN! Anzi, se non l'avete provato, vi invito a provarlo ragazzi, perché è un gioco molto molto carino e simpatico, anche perché le partite durano massimo 18 minuti e quindi mi permettono di gestirla meglio nell'ambito dei miei impegni anche. Comunque, bando alle ciance. Oggi ragazzi, dato che fa sempre bene un po' per i neofiti, farò di nuovo un bel tutorial sull'arena, dove andiamo a scegliere le carte, le piccate, a fare le piccate per la scelta delle carte e, se riusciamo con i tempi, a fare anche una partita. Essendo più un tutorial che un'analisi delle piccate, non ha senso andare a giocare il gameplay. Chiaramente nel gameplay dovete cercare di ottimizzare al meglio le carte che avete, anche in base a quelle che vi dà chiaramente. Però, noi intanto andiamo. Andiamo a attivare. Allora, Anduin, Uther o Garrosh? Allora, io farei Anduin ragazzi. Allora, Uther è un'ottima scelta. Però, voglio provare Anduin, il sacerdote, quindi andiamo con lui. Ok, allora. Allora, allora. Io farei... Il corsaro può essere utile per distruggere l'arma. L'oracolo per andare a pesca, ma non mi piace regalare le carte all'avversario. Golem Arcano può avere senso... Ma io farei il corsaro verde rosso per annientare le armi. Oh, la prova della luce è un'ottima carta, ragazzi. Andiamo di lui. Allora, scienziato pazzo? Beh, ragazzi, scienziato pazzo chiaramente in un mazzo che non ha segreti non ha senso. L'ognomo meccanico? Io evito qualche volta di piccare i drop a uno, ragazzi. A meno che non siano particolari, tipo uno zombiciò, ad esempio. Quindi, un po' di smerdo, diciamo, i drop a uno. Però, in questo caso, abbiamo la parola d'ombra a morte, che è un'ottima carta di removal per il sacerdote, quindi andiamo a prendere lei. Allora, poi. Giostrante di meccania, mago del Dalaran, tecnica alla nera. Allora, la tecnica alla nera può essere una buona piccata. Allora, il giostrante di meccania è valido se vincete la... La... Se vincete, appunto, la... Il coso, però... No, direi tecnica alla nera, perché comunque è un drop più forte. Allora. Allora, la chiarica della contea può essere un'ottima carta. Anche l'inseguitore Branklin è un'ottima carta in arena. Il silenzio, sì, anche il silenzio è valido. Ehm, avere un silenzio ci può stare nel mazzo, però, io andrei prima di chiarica della contea, perché pescare non fa male. Ehm, sì, andiamo di chiarica. Allora, oh, abbiamo un draghetto, utile per mandare in combo la tecnica. Ci può avere senso. La cura rapida, mh, sni. Anche il 3-3, eh, con furere il vento, con... Si ha, con l'attivando l'ispirazione, può avere senso. Ma io andrei di draghetto per provare a mandare in combo la tecnica. Allora. Ehm, draghetto, di nuovo un altro draghetto. Un furto del pensiero o un murlocchino? Allora, il furto del pensiero, beh, ragazzi, è un peschino, peschi di carte dell'avversario. Può avere senso. Ehm, può avere senso, ma io andrei a sto punto di draghetto per poter mandare in combo anche l'altro draghetto e la tecnica, la nera. Aumentiamo i draghi, a questo punto. Allora, guaritrice, una... beh, io andrei di nuovo di prole della luce, perché è sempre un ottimo drop a 4. Ehm, allora, in questo caso, ragazzi, non so, questi due non sono dei grandissimi drop. Ehm, meglio avere una spell o un removalino, ci può stare, e io scelgo punizione sacra. Allora, beh, la cabalista è molto forte come carta, soprattutto in arena. Ehm, fa comodo poter rubare dei drop, i drop avversari. E quindi andiamo di cabalista, ragazzi. Allora, beh, prescelto da Velen è molto forte in arena, ragazzi. Se riuscite a tenere il board, a lasciare una creatura sul board e l'avversario non vi risponde, prescelto da Velen, e gli date molto, molto fastidio. Andiamo di prescelto. Allora, signori lupi bianchi, guardiana d'argento o costruttrice di draghi? Allora, io direi un signore lupi bianchi che, in caso riusciamo a tenere il board, sicuramente è un ottimo buff. È un ottimo buff. Allora. Allora, in questo caso, ragazzi, a me piace tanto la Chierica, perché sempre nell'idea di dare un bel buff al board, ci può stare bene. La Cacciatrice non è sbagliata, anche la Cacciatrice. La Mascura è un 4-4, costa 5, fa 3 danni, ma io... Cioè, a questo punto preferirei la Chierica, per avere più carte basse e poterle giocare in sinergia. Allora, infligge 5 danni nel nemico? No, non mi serve. Facciamo così, diciamo così, non mi serve. Meta Rupo Alpha, può essere un buon drop a 2. Abbiamo... Però abbiamo il Bruto Ogre, che è un 4-4, costa 3, che è sempre una carta che dà fastidio in arena, anche perché l'avversario la deve rimuovere, perché comunque è una carta che dà fastidio, ragazzi, quindi... Andiamo di lui. Allora... Allora. Va detto, il Curatore del Museo è molto forte. Io sarei per prendere lui. Va anche detto che in ottica arena, il Bombarolo Pazzo vi aiuta a recuperare il board nelle prime fasi, se per caso non riuscite a tenerlo. Però è randomico, chiaramente. Il Mercante degli Infreschi è un'ottima carta, è un ottimo drop a 4, però la drop a 4 già ne abbiamo due abbastanza importanti. Io andrei di Curatore del Museo perché può dare un ottimo supporto. Allora, beh, ragazzi, come al solito, lo Yeti come carta, essendo un 4-5, costa 4, ha un'ottima media ed è un'ottima carta in arena. La Pantera è valida anche la Pantera, come le Moval, però il Portalanche no, ragazzi. Non ha... cioè, ha senso, ma non con quest'altri due a fianco, ecco. Quindi andiamo gli Yeti. Oh, allora, eh, questa potrebbe essere interessante, vi spiego perché. Il Mastro Riduttore è utile da mandare in combo con la Cabalista per rubare il drop a 4. Non abbiamo, eh... per rubare il drop a 4. Quindi potrebbe essere interessante il Mastro Riduttore. Il Berserker, in combo con altre carte che ci potrebbero arrivare, potrebbe essere interessante, se riusciamo a sinergizzare. Però, anche la Paola di Potere Scudo è una carta forte, perché ci fa pescare da più 2 di salute. Eh, ardua scelta, io andrei, dato che non abbiamo ancora dei ciccioni validi, andrei di, però, di Gubarash, per questa volta. Allora, beh, in questo caso, ragazzi, andiamo di Mistica, perché magari proviamo i segreti, quindi ci può stare, non avendo di meglio. Allora, lo Spezza Magie, il Cultista Oscuro o la Cacciatrice? Allora, ragazzi, Cultista Oscuro è un'ottima carta, perché è un 3-4 che costa 3. Ottima. In arena, valida. Però, ci potrebbe far combo ad un Silence, ragazzi, non avendocelo, se avevo pescato prima il Silence e quello a 0, non avrei preso la Spezza Magia, ad esempio. Però, non avendolo pescato, un Silence può servire, andiamo di Spezza Magia. Allora, Forma d'Ombra. Spirito d'Ombra, quando peschi una carta, il suo costo si riduce di 1, ma non abbiamo, a meno che non lo possiamo mandare in combo con la Chierica, ma... L'Ombromante Torva infligge 3 danni a entrambi gli eroi. Ah, ragazzi, la Forma d'Ombra... Ha senso se abbiamo un'altra Forma d'Ombra, potrebbe diventare interessante. Però, in arena, potrebbe starci la Forma d'Ombra. Non ci fa schifo. Ecco, vedete, ragazzi, l'attacco di un seguito diventa pari alla sua salute. Abbiamo preso il Berserker, potrebbe starci bene prendere il fuoco interiore. Magari ci desse anche quello che raddoppia l'attacco, potrebbe essere una carta che può far male. Il Kraken è utile, però io andrei di fuoco interiore nella speranza di... Ecco, nella speranza di... Allora, visione mentale, spettacolo del torneo, furia di ghiaccio. Beh, a questo punto, ragazzi, visione mentale... No, io andrei di furia di ghiaccio. Può dar fastidio. Allora, campionessa sacra può essere molto, molto valida. Un bel drop a 4, ci piace. Il parola del potere scuro anche non è male. Il tuo potere costa 1, lanciare il lago potrebbe avere senso in combo con parola... In combo con la forma d'ombra, ma... No, andiamo di campionessa sacra, ragazzi. Allora. Mastro riduttore, sentinella... Sentinella o Murlock. Allora. Mastro riduttore può avere senso in combo con la cabalista. C'entrasse una combo del genere, rara, ma potrebbe entrarci. Può aiutarci per rubare dei drop più forti di quelli con due di attacco. Pensiamo, pensiamo. Andiamo a rimastro riduttore, ragazzi. Facciamo... Facciamo una pazzia. Allora, il circolo di guarigione... Abbiamo il ventiquattresima carta. Non abbiamo la chierica... Non abbiamo la vestale. Non abbiamo la vestale Aukenai. Il vestatore crudele mi sembrerebbe una carta migliore, in questo caso. Abbiamo 6 carte... 5 carte da pescare. Allora, se entra la vestale, ragazzi, mi mangio le mani. Però, andiamo a rifiutare. Allora, corruttore alla nera. Può avere senso avendo già due draghi? Potrebbe averci senso. Il golem, però, è una bella carta, ragazzi. Siamo un po' debolucci a drop a 3. Beh, ma neanche mica tanto. Corruttore alla nera... Se riuscissimo a mandarlo in combo... Beh, non sarebbe tanto male. Culturale, ragazzi. Allora, sentinella, fabbrostioso. Beh, in questo caso mi sembra ragionevole il fabbrostioso, perché è un 4-6, costa 5. Ci può stare. Non lo droppiamo con l'arma, ma comunque è un 4-6. Fa la sua porca figura. Il 4-4 che è da ranto di morte... Può essere interessante anche lui, effettivamente. Ma dobbiamo giocarlo con i board... Comunque con almeno due minion sul board. Non è detto che in arena riusciamo. Quindi andiamo di fabbro che almeno ha un corpo maggiore. Oh, tumulazione. Beh. Ottima carta. Avendo già una porca di morte, ho anche la tumulazione. Ci sta bene. Circo di guarigione. È rientrato un altro circo di guarigione. Però non ha senso, secondo me, prenderlo. Drop a 5. Siamo messi abbastanza bene. Allora, la tigre potrebbe starci. Il carro ragno... Anche. Il carro ragno anche. Certo, se c'entrasse la vestale, sarebbe da mangiarci le mani al prossimo turno. Però vabbè, andare a prendere la circolo per un'ipotetica vestale al turno dopo... No ragazzi, io non rischierei. Non rischierei, non rischierei. Andiamo di tigre. Vestale. No. Andata bene ragazzi. Allora... Beh, la distruzione di massa ragazzi è un silence. In più ci fa pescare. Come ultima carta ci può stare. Via. Allora. Ci siamo fatti. Un mazzo con una curva di mana che va sul 4, quindi ci può stare. Abbiamo un andamento così può starci. Un po' troppi drop a 1, ma drop a 1 comunque validi. Perché abbiamo il corsaro che ci distrugge l'arma. Abbiamo la chierica che ci aiuta a pescare. Quindi comunque sia non male. Non male. Abbiamo delle sinergie interessanti. Non abbiamo ciccioni, ecco. Diciamo questo. Non abbiamo ciccioni. Vabbè, staremo a vedere. Speriamo di riuscire comunque a gestire la partita. Grazie a tumolazione, grazie alla cabalista. Vediamo se riusciamo a dare quel qualcosa in più alla partita. Facciamo una partita. Vediamo un po' come va. Eccoci qua. Allora, abbiamo il cacciatore. Va bene, lui ci ferisce di due e noi ci curiamo di due. Quindi può anche starci. Allora, la forma d'ombra adesso la toglierei. Il gubarascio lo toglierei e lascerei la chierica. Vabbè, speriamo che ci entri qualcosa di meglio dopo. Facciamo così. Passiamo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, se non ha buff particolari... Beh, però... Beh, non sarebbe male. Non mi curo il turno dopo. No, vabbè, ma andiamo a pescare, ragazzi. Al peggio ci rispondiamo dopo. E passiamo. Vediamo che cosa gioca. Vediamo se ha la spelle per rimuoverci l'1-3. Tanto una pescata l'abbiamo fatta. Non la buttiamo via. Eh, ti pareva. E ti pareva. Va bene. Ci può stare, ci può stare. Allora, a questo punto... Beh, sì, direi di andare di magma. Così si fa altri cinque danni in faccia. Per rimuoverla. Carta forte in arena, effettivamente. Allora. Beh, io a questo punto, se lui non ci ha attaccato... Io farei così e gli darei cinque danni in faccia. E... Passiamo. Ok, così si è preso dieci danni. È stato un po' stupido, come si può dire. Ok. Allora, facciamo così. Potere congelante. Vabbè. Tanto ci poteva stare, ragazzi. Allora. Io farei così. Però certo, andare a giocare, lei è... Asciucco. Non è che mi piace tanto. A noi si dice asciucco, cioè... Senza... Eh... Oppure... No, silenziamo, no. Vai, facciamo così, dai. Dobbiamo purificare il pozzo su... E passiamo. Al prossimo turno possiamo giocare... Cavalista, che non ha senso giocare. Allora. Beh, io per prima cosa... Silenzierei. E andrei a rischio. In modo che almeno... Questo lo togliamo. Curiamoci e passiamo. Abbiamo la tumolazione. Abbiamo anche la parola di morte. Adesso vediamo. Allora. Beh, a questo punto io... Andiamo a pescare prima lui. Vediamo che ci dà. La bestia. Carta non male. Carta non male. Il problema di questa carta, ragazzi... È che regaliamo un 3-3 all'avversario. Però... È abbastanza scontato. Andiamo a prendere lei. Facciamo così. E passiamo. Ora non siamo messi male, perché abbiamo il vantaggio della tumolazione da poter giocare. Vediamo lui che cosa fa. Sacrifica il 3-3? No. Non lo sacrifica. Forse avrà i cani? No. Allora. Non abbiamo né draghi né niente. Brutta cosa. Facciamo così. Curiamoci. Togliamo. Ehm... No. Facciamo gli 5 danni in faccia. E passiamo. Ok. Sta giocando male lui, eh. Perché lui ha... Sta giocando un po' male. Vabbè, ce l'aveva. Eh, giusto. Speriamo che c'entri un draghetto, ragazzi. Speriamo che c'entri un draghetto. Non c'entra il draghetto. Non c'entra un cavolo. Allora. A questo punto... Vabbè. Giochiamo... Giochiamo lui. Lei la teniamo in caso avesse altri segreti. Ci ricuriamo di due. E passiamo. Ok. Stiamo avendo un po' di giella perché non troviamo i drop... I drop non ci giochi, i drop a 2. La tua magia non ti salverà. Beh, ci ha fatto un piacere. Ora farà uno spell probabilmente. No. Beh, ci ha fatto un piacere comunque. Ci ha fatto un bel piacere a silenziarci. Male creale. Ah, non l'ha vinta. Buono. Bene anche per noi. Per noi ottima questa cosa. Allora, facciamo intanto... Facciamo così. Vediamo che segreto è. Trappola esplosiva. Molto valida. Molto valida. Allora, facciamo... Togliamo lui. Intanto. Facciamo così. E ci curiamo. Peccato che non ci stanno entrando i draghi. Potevamo fare delle belle combo. Però vabbè. Ottimo. Ottimo. Ottimo perché giustamente diamo il più uno ai danni magici. Quindi ottima cosa. Questa mi sa non l'aveva calcolata il ragazzo. Mi dispiace per lui. Uh, un bel mostro. Un bel mostro, ma noi andiamo a fare tumolazione direttamente. Andiamo a mettere la prole. E gli andiamo faccia. Ora il Lethal. Vediamo che cosa si inventa. A posto. Mi dispiace. Ok ragazzi. Ed è andata. Ecco. Che cosa dovete fare quando giocate in arena? Cercare di ottimizzare al meglio le carte che avete. Ottimizzandole al meglio riuscite a sfruttare anche la merda sostanzialmente. Quindi dovete dare valore a qualunque cosa ragazzi. Avete avuto iella nelle piccate? Non importa. Scegliete le carte che possono essere migliori. E cercate di sinergizzarle al meglio con il vostro mazzo. E poi ci si prova ragazzi. Chiaramente dopo, chiaro, affrontare mazzi con leggendari diventa un po' più complicato. Però si può gestire. Si può gestire e ci si può riuscire. Vabbè ragazzi. Facciamo così perché sennò il video dura troppo. Spero che vi sia piaciuto il video. Noi ci vediamo la prossima volta. Quando sarà? Non lo so ma ci sarà. Ve lo garantisco. E niente ragazzi. Ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.